Babordo è il lato sinistro della nostra barca da differenziare da tribordo per ricordarlo babordo con la B tribordo destra con la T quindi viene successivamente si comincia a scrivere da sinistra destra quindi babordo tribordo questo sistema per memorizzarlo ma questa parola normalmente in italia non viene utilizzata perché si utilizza più spesso più comunemente il lato sinistro della barca quindi babordo è comunque sinistra bagnasciuga parte esterna dello scafo che normalmente viene bagnato anche dalle onde dal movimento dello stesso arridatoio è il sistema che permette di dare tensione o di togliere tensione alla sartia o comunque sia a questo sistema nel mio modellino e questo pezzettino ma si vede veramente poco comunque è un sistema per dare tensione per aumentare la tensione della sartia appunto